Donne celebri e comuni, vittime ed eroine, madri e capofila di battaglie per la conquista dei diritti. Importanti figure, famose non, sono state celebrate dagli studenti del nautico e dei licei classico e artistico che hanno realizzato dei video nell'ambito del concorso sul tema La donna per i giovani nell'era dei social network, promosso dal comune di Gela. I lavori sono stati proiettati in aula consigliare in occasione della giornata mondiale della donna. Abbiamo voluto organizzare qualcosa che andasse di là della solita celebrazione dell'8 marzo un momento in cui si ricorda e si manifesta una solidarietà per la giornata internazionale delle donne Noi abbiamo voluto convolgere le scuole e vedere il loro punto di vista quindi vedere realmente la donna come viene vista per i giovani Si parla sempre di disuguaglianze tra uomini e donne si parla appunto di che le donne hanno meno possibilità di crescere a livello di carriera nel mondo del lavoro quando invece tutti i dati statistici e le varie ricerche ci dicono poi che le donne sono quelle invece che hanno più meriti hanno più titoli e in realtà hanno maggiori capacità In questo video abbiamo voluto raccontare una storia abbiamo voluto scegliere qualcosa che fosse diverso da un solito giorno in cui auguriamo il meglio a queste donne che hanno subito tanto nella loro vita ma più che altro noi con questo video non ci sentiamo tanto di dire auguri alle donne oggi ma ci sentiamo di dire condoglianze alle donne perché penso che francamente oggi sia superficiale dover augurare cosa poi alle donne io penso che in questo giorno noi dovremmo ricordare quello che le donne hanno subito ricordare quelle donne che sono state e che hanno fatto tanto Noi abbiamo voluto portare un messaggio diverso dal solito che non è quello della solo commemorazione della donna e della sua figura noi abbiamo voluto portare un messaggio innovativo attraverso la storia dei costumi e della loro evoluzione infatti questo progetto nasce sia da parte del liceo artistico che da parte del nautico e abbiamo voluto sottolineare l'unione della donna con il suo territorio ovvero quello di Gela e proprio per questo abbiamo voluto raccontare una storia dell'evoluzione del mare, del costume e della donna I partecipanti sono stati premiati con targhe attestati di partecipazione